In occasione del vertice annuale sul localismo organizzato dal gruppo ECR europei conservatori e riformisti è stata sottoscritta la dichiarazione politica tra i leader europei del gruppo ECR per rafforzare le relazioni bilaterali volte a risolvere le sfide che accomunano in Europa, città e regioni. Si dichiara con il documento il reciproco impegno per scambiarsi le migliori pratiche e lavorare insieme per accordi tra le regioni e le città su temi specifici di interesse rispondendo insieme a bandi, avvisi e progetti dell'Unione Europea per aiutarsi in situazioni di crisi naturali e non. Il presidente Marsilio ha fatto riferimento anche all'accoglienza dei cittadini ucraini. Il governatore ha fermato per primo il documento definendolo la dichiarazione dell'Aquila che sarà portata in Europa. Il vertice negli ultimi anni si è tenuto sempre in Olanda per volontà del presidente Marsilio è tornato in Italia. Tanto sono molto orgoglioso di aver restituito all'Aquila e all'Abruzzo una centralità nelle politiche europee e internazionali. Oggi abbiamo decine e decine di ospiti che governano regioni, province e città in tutta Europa oltre che in gran parte dell'Italia e quindi restituiamo una centralità politica, strategica al nostro territorio. Questa dichiarazione dell'Aquila l'abbiamo voluta sottoscrivere e proporre ai nostri amici e colleghi per aumentare la cooperazione tra regioni e città che sono governate da tutti i partiti e gruppi appartenenti alla grande famiglia della politica europea dei conservatori, dei conservatori e riformisti europei che ho l'onore di presiedere nel Comitato europeo delle regioni per scambiare tra di noi le esperienze, le migliori pratiche, ognuno ha diciamo le sue specialità, le sue specializzazioni, le sue attività, conoscerle, integrare, mettere a fattor comune queste esperienze può migliorare il livello dei servizi e delle politiche offerte ai cittadini nei nostri territori. Il Presidente ha spiegato che questo documento sarà particolarmente utile perché su alcune tematiche come spopolamento, aree interne e calamità naturale l'Europa stenta sempre a rispondere. Concentrandoci su due temi fondamentali sui quali l'Europa purtroppo fino ad oggi ha dato poche risposte che è quello della risposta alle calamità naturali e della risposta al tema dello spopolamento delle aree interne. Noi siamo all'Aquila in una zona che vive pesantemente entrambi questi fenomeni. Un approfondimento sul vertice dell'Aquila è il tema della trasmissione fatti e le opinioni del direttore Carmine Perantuono in onda stasera alle 22 e 30.